Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Nuvosità in transito e locali piogge possibili sull'Italia. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per martedì 3 agosto. Addensamenti in transito al mattino su buona parte della penisola ma con tempo asciutto. Locali piogge possibili su Alpi, Sardegna e tra Basso Lazio, Campania e Molise. Al pomeriggio instabilità in aumento al nord con acquazzoni e temporali sparsi più probabili sui rilievi ma con sconfinamenti anche sulle pianure, specie di Lombardia, Veneto e Friuli. Variabilità asciutta al centro-sud con isolate piogge sulla Campania. Inserate in nottata residue precipitazioni sulle regioni settentrionali ed in particolare sulle Alpi. Asciutto con nuosità alternata schiarite altrove. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo da nord a sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.